Ripercorre le antiche vie dei Templari, andare a scoprire quello che è il territorio della Basilicata, quello meno conosciuto a volte, quello più lontano dalla ufficiale magari via Francigena, che non passa necessariamente di lì. Ci sono percorsi studiati apposta per far conoscere la storia di questi luoghi, andare a riconoscere la storia anche delle genti a Cherutine e Oppidane. Lo vogliamo trattare questo argomento insieme a Elisabetta Chieca, che è venuta a trovarci della rete via Francigena Basilicata. È un piacere averti qui. Grazie, buon pomeriggio. Allora, la via Francigena del Sud, prima di tutto parliamone un po', diamo una pennellata di storia di questa via. La storia narra che fu Sigerico, arcivescovo di Canterbury nel 990 d.C., a segnare l'inizio del cammino, noto oggi come via Francigena, recandosi appunto in visita al Papa Giovanni XV a Roma e da questo viaggio nacque uno dei più importanti itinerari di pellegrinaggio che portava moltitudine di anime alla ricerca della perduta patria celeste. Questa via attesta l'importanza del pellegrinaggio in epoca medievale. Esso doveva compiersi prevalentemente a piedi per ragioni penitenziali con un percorso di 20-25 km al giorno e nasconde in sé un aspetto devozionale, il pellegrinaggio appunto nei luoghi santi della religione cristiana. Sigerico nel suo viaggio di ritorno prese nota dei luoghi di sosta in un diario. Questo documento si è preservato fino ai giorni nostri e attualmente è conservato alla British Library. Il percorso è di circa 79 tappe e da qui è nata appunto la via Francigena. Ecco, poi si arriva a quella che è la via Francigena della Basilicata, una cosa un po' poco conosciuta anzi, perché non è tipicamente la classica via Francigena appunto ma è comunque stata meta di vari pellegrini che passavano anche dalla Basilicata. Vuoi raccontarci un po' come è nata questa idea della via Francigena in Basilicata? Appunto, come ho detto, la via Francigena è un itinerario culturale riconosciuto dal Consiglio d'Europa ed è secondo per ordine di importanza al cammino di Santiago di Compostela. Per noi è stato importante inserire la Basilicata in questo percorso che altrimenti sarebbe rimasta fuori in quanto i pellegrini geograficamente andavano dalla Campania direttamente in Puglia e quindi sarebbe rimasta esclusa da questo percorso. Per noi ha significato, significa dare impulso allo sviluppo locale. Si tratta di un grande progetto che cerca di mettere insieme rigenerazione urbana, sostenibilità ambientale, produzioni tipiche locali. La regione Basilicata ha aderito a questo progetto e altri 30 comuni circa, tra cui i capoluoghi di provincia, una unione di comuni, attualmente l'unica in Basilicata, unitamente a due istituti di ricerca e a due parti naturalistici, di cui uno regionale e uno nazionale, ne sostengono l'adesione. Quindi insomma un bel progettone che è stato condiviso da molti enti, molti progetti. Allora andiamo un po' su quello che è lo specifico di queste vie. Per esempio tra i vari progetti ce n'è uno che si chiama Sulle tracce dei Templari. Ho accennato prima che avremmo battuto un po' le strade degli antichi Templari. Vuoi parlarcene? È interessante. Sulle tracce dei Templari è un itinerario rurale articolato in un percorso per ecoturisti che desiderano, cioè che possono fare escursioni in natura sia a piedi che a cavallo in bici appunto sulle strade battute dai Templari alla ricerca delle radici delle genti lucane. Si tratta di... L'itinerario comprende due percorsi sulle tracce dei Templari tra Misteri e Vile Rustice che si snoda tra la città di Opido Lucano e Dacerenza città dal fascino incontaminato e il secondo dove qui il mistero risiede nella cattedrale di Acerenza antica struttura cluniacense unica nel sud Italia le ville rustice si rifanno ai rinverimenti di fattorie di epoca romana che si trovano nel territorio di Opido Lucano ed è lungo questo 12 chilometri il secondo sulle tracce dei Templari tra Misteri e luoghi sagri si snoda tra le città di Banzi e Forenza e qui il mistero risiede si rifà alle fonti insomma in particolare alla Fons Bandusie cantata da Quinto Razio Flacco importante poeta latino di origini lucane Sono sentieri i percorsi fruibili da tutti o ce ne sono alcuni più indicati per chi magari per esempio ha scarsa motilità quali sono le caratteristiche di questi percorsi dal punto di vista di chi li intraprende? Per quanto riguarda il percorso che va da Opido Lucano ad Acerenza si possono fare due percorsi uno più articolato per tracciato e pendenza che porta dalla piazza del paese piazza Guglielmo Marconi congiunge alla fine del paese e va fino ad Acerenza dove è possibile appunto vedere i resti di queste masserie antiche e chiese angoli dal fascino antico Davvero una storia veramente antica quei luoghi, fantastico Il secondo percorso per i più sportivi porta da Opido Lucano dal convento di Sant'Antonio ad Acerenza alla diga sud della città Quindi insomma percorsi per tutti i gusti potremmo dire La Basilicata non è solo questo ovviamente ci sono altri siti di interesse che tu magari vuoi segnalarci perché possono essere interessanti da visitare Tu so che vivi tra l'altro fuori da Potenza in un paesino arroccato su Perimonte, è vero? Sì, in primis mi fa piacere segnalare le cascate naturalistiche del mio paese d'origine San Fele che sono state valorizzate negli ultimi anni e quindi riprova che c'è una società civile che ama sviluppare la propria regione attraverso questi aspetti E voi sicuramente lo state facendo Grazie ancora a Elisabetta Chieca re della rete delle vie francigene della Basilicata per averci portato quello che è soltanto un piccolo frammento di quello che si può vedere in questa bellissima sconfinata regione veramente ricca di storia e di natura ma ora è il momento del nostro prossimo documentario e ce l'ho preso